È tornata! Regina, stai bene? Va tutto bene? Sì! Sono tornata alla mia vecchia personalità! La tua vecchia personalità? Ecco, vi faccio vedere! La vociosa è tornata! Direi proprio di sì, è più forte che mai a quanto pare! Regina, che ti è successo? Che stai facendo? È remersenera a farlo! Ha usato l'energia oscura su di lei, così è di nuovo sotto il suo controllo! Che mostro! Certo non è il padre dell'animo! Puoi fermare questo! Non devi lasciare che tuo padre ti controlli! Puoi impedirglielo! Questa non è la persona che vuoi essere, Regina! Sai che è così! E tu come puoi saperlo? A me invece piace molto come sono! Devi accettarlo! E mentre ci pensi, affronta questo! Regina! C'è un modo in cui posso convincerti! Non risparmiare il fiato se fossi te! No, non rinuncerò a te! Non posso farlo! Non rinuncio a un'amica! Chi è che chiami amica? Tutte noi! Siamo tutte tue amiche, l'hai dimenticato! Ricordi come tu e i cuori vi siete aiutate quando siete cadute nel crepaccio! Regina! Smettila! Ricordi cosa provavi quando eri una della squadra? Quei sentimenti devono ancora essere da qualche parte in te! Sì, Regina! Tu devi ricordare! Adesso ho capito! Pensate di farmi diventare di nuovo debole e triste! Cercate di broliarmi perché sia buona con voi! Noi cosa? No, certo che no! Non funzionerà! Non cascherò di nuovo in quella storia dell'amicizia! Mi dispiace! Bene! È ora di finirla! Bene! Sono stufa della spiazza! Ragazze! Un momento! Penso di avere un'idea! E se la colpiamo con una freccia del potere dell'amicizia! Potrebbe funzionare! Che ne pensi, cuori? Vale la pena tentare! Glipper Force! Freccia del potere dell'amicizia! Básicamente! Glipper Jesus! Grazie a tutti! Paglare con Rule2!